Ora che il sole sta salendo Qual è il gruppo, qual è il gruppo preferito dalle ragazze? Secondo te, secondo te Esattori delle tasse Qual è il gruppo, qual è il gruppo preferito dalle ragazze? Secondo te Esattori delle tasse, esattori delle tasse, esattori delle tasse I'm high as hell tomorrow, I won't remember anything I might as well get a random girl and do something I got my boys drinking bottles like they underpin I gotta figure up and what the fuck is she touching If she touches me again, I swear I'ma throw up, up If she thinks I'm a man, I'ma go nuts, nuts Where you from, who you are, I'm so sick of this bitch Now get back, straight to the beat, cause tonight I'm rappin' with Qual è il gruppo, qual è il gruppo preferito dalle ragazze? Secondo te Esattori delle tasse Qual è il gruppo, qual è il gruppo preferito dalle ragazze? Secondo me, secondo te Esattori delle tasse Esattori delle tasse Esattori delle tasse